Allora, a questo punto il copione è da scrivere, lo scriviamo insieme se siete d'accordo. Io dovrei dare la parola al signore che prima aveva chiesto di intervenire. Le chiedo, vediamo, comunicazione di servizio, c'è la bomba come si diceva a scuola e tutti andiamo via oppure... Tutto a posto, proseguiamo. Va bene, allora, non era abbastanza importante. Le chiedo forse una gentilezza. No, no, aspetti, solo... Ma già da diversi anni ne avevamo parlato anche con il segretario della Federagene... Una domanda che per anni non aveva risposta, è inquietante però. Allora, io credo, ne vorrei conferma da qualcuno, qualche politico presente che magari è più informato di me, credo che noi ogni anno... Le posso chiedere, mi scusi, di presentarsi per avere un'idea? Mi chiamo Maurizio Macioce, sono agente di commercio nel settore dell'abbigliamento e nel settore della divulgazione di prodotti finanziari extra UE. Dico bene, extra UE, perché c'è una novità, poi se qualcuno interessa gliene parlerò. Dico questo perché noi siamo multati ogni anno dall'Europa per avere appunto due sistemi previdenziali. E siccome questo l'Europa non ce lo consente, nessuno di noi lo sa, io l'ho saputo per puro caso, noi ogni anno paghiamo delle multe miliardarie, proprio perché abbiamo due enti previdenziali. Io vorrei che qualcuno di voi si informasse sulla veridicità di questa mia informazione, perché se così fosse aggiungiamo anche un altro argomento per andare a bussare la porta ai nostri politici e fargli muovere un po' il sederino, perdonatemi la parola, e andare in Europa, quando ci si andrà, di qualsiasi partito si sia rappresentanti, andare a dire adesso cambiamo, adesso facciamo un solo ente previdenziale perché basta, non se ne può più. Grazie. Bene, grazie. Non so se era una domanda rivolta a qualcuno in particolare, ma insomma decido io poi, facciamo così, in maniera autoritaria. In attesa della risposta, anzi mentre la sentiamo, io vorrei, non so se in platea l'abbiamo a meno, perché è stata evocata questa figura del silente, questo convitato di pietra. Se ci fosse un silente qui in sala, sarebbe interessante avere poi una sua opinione, una sua testimonianza. Intanto, Gaburro, vuole dare lei una risposta a quello che ha detto Maciocce poco fa? Come no, come no. Però deve stare attento, deve stare, perché se no, Maciocce, mi scusi, abbiamo una risposta da Gaburro. Sì, peraltro noi nel recente passato ci siamo confrontati proprio su questo punto, mi ricordo. Beh, in realtà noi quello che abbiamo fatto è coinvolgere la Corte di Giustizia europea. È chiaro che una doppia contribuzione è assolutamente iniqua, a nostro parere illegittima, e adesso però la palla è passata, diciamo, alle autorità europee con tutto ciò che ne comporta, soprattutto a livello di tempistica purtroppo. Quello che noi abbiamo assolutamente segnalato, perché l'Ena Sarko si difende dicendo beh, la Previdenza è integrativa obbligatoria. È come dire, è bianco e nero, tanto per essere sul pezzo, no? E' chiaro che invece di integrativo non ha nulla, perché noi la dobbiamo versare, perché è una voce che sta in fattura. Non possiamo scegliere da chi farci gestire i soldi. Nella Previdenza integrativa uno sceglie il gestore e sfido chiunque a dire avrei scelto il Nasarco dopo quello che si legge sui giornali. ma non solo, non ha neanche quelle caratteristiche, quei benefici fiscali che sono riconosciuti invece ai regimi integrativi, sia in fase di accumulo, sia in fase di erogazione della rendita. Quindi è chiaro che di integrativo non ha proprio nulla. Noi questo l'abbiamo segnalato a livello europeo e speriamo di avere quanto prima una risposta. Bene, grazie. Spero sia stata soddisfacente. La soddisfa, perfetto.